E' un po' sconvolto per quello che è accaduto? Altro che, mi dice informati se conosci qualcosa, cosa vuoi fare ormai? Vi eravate accorti di qualcosa? Era una coppia tranquilla? No, stamattina, sì, una coppia tranquilla. Stamattina ho sentito la cosa, come si diceva? Il cane? No, ho sentito l'ambulanza. Credevo che fossi i vigili del fuoco, invece era qualcos'altro. Ma erano in pensione i due signori? Il signor Agaruti e la moglie erano in pensione o lui aveva ancora la sua attività? Perché? So che ero in pensione e adesso vedrei che sono moglie perché l'abbiamo vista alcune volte qui. Certo. Mi dispiace, speriamo che si salvi. Speriamo, sì, poverina. E i due figli, sai il nome dei due figli? No. No, abitano a Medolla oppure altrove i due figli? No, lo so. Certe cose non si sanno. Certo, ma sì, si fanno due parole poi senza andare troppo in profondità. E il cagnolino è un bastardino, un cagnolino di razza? Un cagnolino che è cattivo come chissà. Appaia sempre quando passo perché io vado piano ancora, ancora per poco. È stato operato? No, no. No, no.